Ciao a tutti 3 decimi, 17 piloti Quindi una roba allucinante Facciamo partire la gara E niente, bella Inizia il gran primo del Bahrain Che vi immagro se che porta la grande Io mi tengo all'esterno raga perché so Cosa succede adesso Gente che taglia Eh raga lo faccio anch'io Vaffanculo Non potevo far niente io lì Sarei rimasto intrappolato nel traffico A parte che vanno sopra Dai dai Quanto fumo, bloccaggio di qualcuno davanti Oh sempre un'asta abbiamo davanti Anche a Melbourne La volta riusciremo a superarla subito Mamma mia come l'ho sferata E su cordolo C'è raga vabbè Ma ancora che tagliano No No nico Oh ma ne ho ancora un altro qua Oh Via l'ass Sarei rimasto Sarei rimasto Sarei rimasto Sarei rimasto Raga non so In che posizione Sono Quindi In zona punti Credo di esserlo Però non so se Se sono cioè si sono i primi 6, 5 vabbè lo scopriremo a fine gara da tutte le sgommate della partenza super bloccaggio qua della Williams che se non sbaglio si è fatta superare perchè non c'era la Williams davanti non sembrava di aver visto un colore bianco comunque un po' al raga partiva Sebastian Vettel non lo segnava nella classifica segnava a me prima ma non era casu era Vettel prima cosa c'è una mano là anche a Shanghai vorrei vedere la prima curva gente che va dritto dritto per dritto senza frenare e curvare speriamo di no dai piano piano ci avviciniamo alla Williams bloccaggio di entrambe mamma mia stavamo andando addosso ma che paura un laggone non ci credo guarda tutte queste curve raga non so se farla a Baku perché nessuno c'è quella pista nessuno l'ha fatta ancora quindi non so come farla su internet non si riesce a trovare se qualcuno sa dove trovarla per assetto corsa metta il link nei commenti perché io non non riesco a trovarla non so che posizione sono qua non c'è scritto terzo è possibile perché mi sembra dare visto altra gente davanti speriamo che ci staccasse secondo me sarò su la quinta posizione dai dai per guardare quella Williams maledetta non c'è un DRS lo cercano di frenare il meno possibile per cercare di arrivare a una voglianza a me sembrava l'abbiamo perso un pochettino sì è una Williams vedo lo sponsor sulla pancia poi è bianca è l'unica bianca forse è andato un po' lungo non lo so ho mai frenato un botto là infatti l'abbiamo recuperato un sacco ma è super soft sto bastardo non so chi sia quindi Dai dai Che l'avevano presa Sbaglia molto sta curva lui Eh raga loro usano il DRS In ogni tratto perché praticamente Nelle piste modate Cioè quelle create da Da persone non dal gioco Dai creatori del gioco Puoi aprire il DRS ovunque E quindi loro lo fanno Ultimo giro Ultima possibilità Proviamo qui E vabbè raga Colpa mia Non devo provarci se non ero convinto Almeno qua Almeno là E' clare Passiamola Vai Buon sorpasso Ma vuoi vedere che ero terzo Perché non c'è nessuno Davanti alla Manor Almeno non si vede nessuno Guarda in questo caso Ho perso la posizione Solo su Su Sulla Manor Guarda lui è andato davvero di culo Solo io mi sono giurato Settima posizione Vabbè Siamo comunque a punti Niente Adesso vedete la classifica I punti ovviamente non li so Ha vinto il mio compagno di squadra Grande Palmer Secondo Vettel Terzo Weirlein Massa quarto Quinto Gutierrez Io sesto Ma non ne ho settimo Allora qualcuno è stato penalizzato Vabbè No Non è impossibile la Williams Perché c'è Massa davanti a me O era Bottas Vabbè Lo rivedrò comunque nel Eh no però è tipo un secondo Due secondi Non lo so vabbè Comunque raga Il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Come sempre vi ricordo Lasciate un like Commentare Iscrivetevi al canale Ci beccheremo A Shanghai Che sarà la terza tappa Di questo campionato 2016 Da Fabcan è tutto Bella raga Ciao